Lachi e lo squalo. Un giorno il bambino Dario decide di portare il proprio cagnolino Lachi a fare un bel bagno al mare. Lachi, andiamo a fare un bel bagno nell'acqua. Ok, arrivo. Ma in realtà il cagnolino aveva un segreto. E ora come faccio? Che glielo dice Dario che ha paura dell'acqua? Aveva paura dell'acqua, ma per non far torto al proprio padrone si buttano tutti e due al mare. Mentre Lachi stava prendendo confidenza con l'acqua, ecco che arriva uno squalo. Aiuto, aiuto, qualche magnolino. Uno squalo che vuole mangiare il povero Lachi. Ecco che Dario si getta in acqua e comincia a fare la lotta con lo squalo. Finché non libera il povero cagnolino. Tornano indietro e vanno in un bel ristorante. E Dario, ordina? Il po' di pasta e la zuffa. Invece il cagnolino cosa vuole? Io vorrei una bella zuffa ai funghi. Ai funghi. Molto bene. Mangiarono e vissero tutti... Siamo contenti! Siamo contenti! Ciao dalla terza A.